Marco Arzeni è il nuovo segretario della Confcommercio di Fano a cui spetterà da qui in avanti il compito di conquistare sempre di più il consenso e la fiducia degli operatori sia per le mansioni sindacali dell'associazione che rappresentative. Dopo l'inaugurazione della nuova sede nel cuore della città un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di questo processo di rinnovamento iniziato un paio di anni fa in tutta l'organizzazione con l'ambizioso obiettivo di diventare l'associazione di categoria più rappresentativa e di riferimento del comparto economico commerciale della provincia. Una sede più adeguata alle esigenze di una moderna organizzazione con collaboratori molto capaci ed efficienti. Volevamo dare un altro segnale di questa azione non solo di rinnovamento ma anche di impegno a favore della città con la nomina del nuovo segretario cittadino. Un segnale forte di questo rinnovamento è stata la nomina di una donna al vertice della sezione fanese Barbara Marcolini commerciante dal mercato spirito imprenditoriale sempre con il polso giusto sul momento dell'economia cittadina e che si distingue nel suo mandato per affermezza e confronto nei rapporti con le istituzioni. Vogliamo proprio far vedere che la nostra politica sindacale è rinnovata in questo senso quindi un nuovo modo di rapportarsi con l'amministrazione comunale, con gli imprenditori, con gli operatori proprio perché è quello che dà energia e vitalità. Quindi vogliamo veramente creare un valore aggiunto per tutte le imprese per essere sul campo, per essere sul territorio perché fanno delle grandissime potenzialità. In Confcommercio dal 1982 uomo da sempre del sindacato Arzeni si è sempre occupato di attività ricettive, di accoglienza e di pubblici esercizi dove nel tempo ha saputo carpire le esigenze più sentite e di maggior peso per gli imprenditori come la burocrazia soffocante ma anche la lotta all'abusivismo e alla concorrenza sleale. La legalità per Confcommercio nazionale è un tema fondamentale perché addirittura tutti gli anni viene sviluppata una giornata della legalità in Confcommercio che ha ricaduto su tutto il territorio provinciale. Nella nostra provincia ci culliamo troppo spesso magari di dire che è un'isola felice, in Italia nessuna isola è felice, bisogna sempre avere mille occhi puntati e quindi anche la Confcommercio come suo canale privilegiato sul territorio deve stare attenta a eventuali problematiche.